...di questi due viteri di Sottolololta di Bergamo gli dice Vabbè, attenta, se tu vai là, io scommetto che so da che parte sei girato scommettevo, notte la grande distanza, non so, non so, non so, non so, non so e notte la cucina, che non so, e notte la cucina, che non so, non so, non so, non so Ora questo va sulla scala e si metterà contro il cuore così Pronti? Pronti? Foggi davanti di qui di me? No, non so, non so, non so, non so Hai indovinato, non so, non so, non lo ha così Mi pensano di questi due giorni su un portello, che era il minore di questo qua non li è andata giù, volevo fargliela pagare aspetta aspetta io, non so che la vostra storia aspetta, dai figila l'altro ieri ho vinto te, io mi sentivo io non credo di essere tanti anni allora lui va giù, si ha bisogno di posto sulla scala si gira così pronti figlia allora faccio davanti e chi direi erano tre fratelli quello metà, metà icona che dice io ho rante di dis e allora faccio davanti e per più di reno io ho rante intanto lui mi ha fatto un po' di due rischio ahahahahah ahahahahah